Quanto vale la tua parola? Ti capita mai di avere un appuntamento, magari la sera una cena con amici, fai la doccia, sei stanco e ti vorresti buttare nel letto a dormire? Magari se sei giovane hai energia da vendere, ma quando arrivi a una certa età potresti iniziare a essere stanco. E come ti comporti in quei casi? Vai lo stesso? Oppure li chiami e dici guarda non riesco a venire, sono stanco e tiri il pacco? Questa per quanto sia banale è una piccola scelta che fa dividere, fa da spartiacque tra due tipi di persone. Quelle che mantengono gli impegni presi e quelle che non lo fanno. E non importa quanto sia banale questa cosa perché, come sostiene Ardekker, ciò che fai nelle piccole cose si riflette nelle grandi cose. Non esistono via di mezzo. Chi è ritardatario sarà ritardatario per le cose meno importanti e anche per quelle più importanti, ovviamente scudiamo case eccezionali. Chi è disordinato lo sarà sia sulla scrivania del lavoro che a casa. Una persona che tende a focalizzarsi sui problemi lo farà sia per le sciocchezze, ma non esco perché potrebbe piovere, che ovviamente ha quelle più grandi. Quindi figurati se dovesse lanciare un progetto. E per cui quando ti confronti con una persona, un ottimo modo per riuscire a capire il tipo di persona che è è guardare come si comporta nelle piccole cose. Se è una persona che mantiene la parola o se non la mantiene. E non importa quanto insignificante possa essere perché, come ho detto, si riflette sulle grandi cose. E dalla mia esperienza, da quando ho iniziato a farci caso, mi sono reso conto che è davvero così. Ci sono persone che ti chiamano alle 8.55 dicendo ti guarda sto male, non riesco più a venire a cena. Magari erano a cena tra amici e ti avvisano 5 minuti prima dell'appuntamento. Quindi tu dici, cavolo, ma allora potevi avvisarmi un paio di ore prima che ci si organizzava diversamente. Ma pazienza. Tu sai che su queste persone di base non puoi fare affidamento. E sono sicuro che tu conosci qualcuno che si comporti in questo modo. Per cui te lo chiedo ancora. Tu come ti comporti in questo modo? Io tendenzialmente, se do la mia parola, che farò qualcosa se avrò presente, non importa quanto sia frivolo alla questione, ma veramente deve cascare il mondo perché io non sia presente. Perché nel momento che prendo l'impegno io sono abituato a mantenerlo. E ora, pensa a questo tipo di persone che ti avvisano 5 minuti prima che non vengono, sai che su 10 volte che dicono di venire ne vengono 3 o 2 o 4. Come ti comporteresti se dovessi collaborare con loro in ambito lavorativo? Gli affideresti qualche compito, qualche lavoro? Probabilmente no. Perché oggi, per fortuna, la maggior parte delle relazioni si basa sulla fiducia. Quindi, quando qualcuno non si comporta come deve, sai che la prossima volta è probabile che non lo sceglierai. E questo gioca a tuo vantaggio se sei una persona corretta, che rispetta gli impegni presi, e al contrario ti gioca molto contro se sei una persona che non lo fa. Ti voglio raccontare la mia esperienza che ho avuto con la casa, dove ad esempio le ringhiere per i terrazzi esterni un ritardo di 2 mesi. Un fornitore grosso gli ha fatto un ordine e l'ha fatto passare davanti. Perché io ero un povero c***o che ne ha ordinata a solo una, pochi metri, e quindi ha fatto passare davanti i lavori più grossi. All'idraulico, quando è pronto, non sono arrivati i pezzi e di conseguenza non può completare il suo lavoro. Poi, quando arrivano i pezzi, nel frattempo aveva preso un altro lavoro, si era spostato, e anche qui un mese di ritardo perché si muoveva tra un altro cantiere e casa mia e quindi un ritardo incredibile. Il falegname, stessa cosa come le ringhiere, gli è arrivato un ordine grossissimo, però lui perlomeno ha avuto la decenza di dirlo. Un ragazzo giovane mi ha detto, guarda Max, mi è arrivato questo ordine, per te è un problema se ti consegno il tuo con un mese di ritardo? In quel caso già ero ritardi su ritardo, gli ho detto, no, nessun problema, vai tranquillo. Probabilmente se gli avessi detto, sì, viene da me subito, l'avrebbe anche fatto, quindi ho apprezzato. Poi alla fiera del mobile ho visto un tavolo di vetro che mi sono innamorato quando l'ho visto, consegna garantita a settembre, l'ho ordinato, è arrivato a febbraio. Settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Cinque mesi di ritardo per il mio tavolo. Ora, cosa significa consegna garantita? Poi il negozio magari non è neanche colpa, è giustamente dava la colpa a chi le deve consegnare, perché gli hanno arrivati tanti ordini e non riuscivano a farlo. Però ti rendi conto di come, purtroppo, nel mercato di oggi, mantenere la parola non sia assolutamente all'ordine del giorno. Per cui, se hai un'attività, sfrutta lo tuo vantaggio questa cosa, mantieni la tua parola, rispetti i tempi, consegni i lavori come promesso, perché avrai un vantaggio competitivo nel lungo periodo che è difficilmente superabile. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ti saluto. Ciao! Aggiungo, e tu che tipo sei? Uno che rispetta la parola oppure che cambi idea in base a come gli fa più comodo? E ricorda che quello che fai nelle piccole cose si riflette nelle grandi cose.